e sono qui per dirvi quello che si può fare, quello che non si può fare e quando si può fare è sta chiaro? è sta chiaro? usiamo il cotton fioc la mattina, bene mira, con la punta della mia spada sto tracciando una linea di demarcazione, di confino è molto importante che nessuno, soprattutto i vecchi, non sorpassino questa linea perché tra poco a chi ci sarà un duello molto pericoloso tra me e il bandito mascherato tutto vestito de negro, de nero bandana, cappello, mantello, pure il cavallo è tutto nero avete capito di chi sto parlando? arriva Zorro di chi? non sento Zorro esattamente, è il bandito Zorro ora, recapitola per los niños, non sorpassate questa linea, anche perché ci sono le transienne carambolates per los grandes, se vedete che los niños sorpassano la linea, acchiappiamolos e recuperiamolos chiaro? bene e ora è il mio trucchetto preferito per attirare qua il bandito mascherato è il trucchetto della signorita vediamo un po' me la ricordavo meno brutta lei è vestita come Gion Travolta venga qua, andale anche il cappello da Pinocchio non è male è incantato guarda Davide, fermate è incantato me so incantato e adesso faccia finta di essere sorpreso ho capito che lo fa ogni mezz'ora però, su riproviamo tolga e cosa imbarazzante per favore allora faccia la faccia subita di più vabbè, sorvoliamo no, così fa ridere allora al mio tre dovrà urlare e tutti voi è il nome del Zorro molto forte perché ha bandana il cappello il cerume nelle orecchie è sertenata e non la cantante è nata a nulla vabbè uno, dos, tres Zorro più forte Zorro faccia finta di aver paura Zorro Zorro me la ricordavo quello brutto Capitano Zorro Capitano, cos'è Juarez de los Yurilos? si, si, io so che io so Zorro, scendi all'asino asino? si questo non è un asino è un cavallo e sai come si chiama? no, come si chiama? si chiama Tornado come si chiama? Tornado se ce la fa Pinocchio migna cosa? migna migna così valis e rifaccia la battuta che l'ha bruciata proprio si chiama Tornado si, è tornato al manecchio porfa ho capito tre ore che bella che bella che bella no, 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 no io dico la sua espada ah, le gusta porfavor che c'è? molto bella sa usarla? certo che sa usarla laio sesoro ah, ecco perché è vestito come laio sesoro ma lei quando va in pensione? capitale spero presto dovrei chiamarla nonno scusami è il lancio del sombrero ah, perfetto almeno anche uno dei sette nani qui fa qualcosa porfavor porfavor ma bravi bravo facciamo un applauso no, no, non è vero perché? non ha fatto nada ma non è vero infatti sa lì si, un po' più in alto lo mette al cappello non faccia lo spirito ma non la sente lei un'aria strana oggi tutti questi fantasmi è un rotolo di scopo porfavor capitano che cos'è? vabbè capitano ho capito ci fate cominciare il duello porfavor qualcuno vuole fare zorro al posto mio capitano possiamo combattere per cortesia zucca ho il pueblo che mi aspetta ho il bambino sul fuoco guarda porfavor che c'è? nulla non si faccia vigno vigno glielo dica che è finto l'orologio porfavor non mi entri in campo però perché ma questo sono io si ha visto capitano? si però lui ha la zeta lei no combatta non dica sciocchette zorro capitano bandùè oh ah ah bravo morbido Fermi! Ferma tutto! Perché? Avete visto cosa ho fatto? Ho fatto nada, nada. Che ho fatto? No! Ma ha sputato nell'occhio. Ma non ho sputato nell'occhio. Nel derecio, come l'hanno visto tutti? Non ho sputato nell'occhio derecio. Chieda, chieda. Bambini, ho sputato nell'occhio derecio del capitano. La bocca della verità. Ma non è vero. Vabbè, facciamo così. Che c'è? Lei dice di no, io dico di sì. E quindi? Ho sentito di una nuova invenzione. Un'invenzione nuova, sì. Si chiama Movioz. Ah, il bar. Fonica! Fonica! Ho fatto nada, nada de nada. Ho fatto nada, nada de nada. È per finta! Teatro verità, signora. Che scherzo! Stai lì, ma basta, se no non vedi niente. Stai lì, se no non vedi niente. C'è in silsia? E io la metto a chi? A chi? Tris, Toma, ciao! Ma è che Tris! Ha fatto dos! Si chiama Tris e ci saluto! Due punti! 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 Capitano Mira, l'alcalde vuole parlare contigo. Mira, mira. Eh? No, dico, Capitano Mira, l'alcalde vuole parlare contigo. Eh, già, non lo intendo. Decocios, eh? Decocios. Dico, l'alcalde, quello lontano, quello vicino alla bella signorita, vuole parlare contigo, il suo comandante. E lo potevi dissiungere? Ho detto tre volte, dai. Un po' più lontano, no? Prego, prego, intanto le curo. Dai, stipata. Hola! Come stas? Eh, Capitano, non la signorita, l'alcalde. Eh, grosso, mi mette ansia. Eh, fa male, lo so. Mi gonfia come una zampogna. Ali, 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 ali. Hola, come stas? Vieni. Capitano, sulle mani! Sulle mani! Non posso, mi cate. Facciamo silenzio l'indietro per cortesia, stiamo facendo uno spettacolo qui, grazie. Capitano. Con chi sei interloquendo? Lo so, con le fatte truccatrici, dai. Ma porfa. Alzi le mani. Non mi cate! Fonico al flamenco. Non è il fonico. Sì, 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 sì. Contento. Capitano, per questa volta finisce così, anzi, con seppa. Ma porfa. La prossima volta. No, no, no. Zig de Zah! Adios! 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 Adios!